Amici, puntini puntini, guardate, la commedia per la regia di Franco Regina che sarà rappresentata al Teatro Cielo venerdì e sabato sera. Giuseppe Libere, che ruolo interprete questa volta? Allora, io sono il padrone di casa, dove dovrei essere l'artefice della situazione, dove ho una brillante idea e decido di cornificare mia moglie e sottolineo cornificare perché le corde assolutamente fanno sorridere Ma a quanto pare non sono stato io solo ad avere questa idea, quindi ci sono una serie di situazioni ingarbugliate di cui è complice mia moglie, ovvero Chiara Calandrina. Allora, Chiara, come prendi questo atteggiamento del tuo marito? La prendo benissimo perché anch'io faccio altrettanto in questo copione, quindi sono moglie e amante. Diciamo che è un copione pieno di intrighi e equivoci, amorosi, quindi si basa proprio su questo la commedia. Il trio d'assalto del piccolo giro di Alcamo. Tra i due litiganti il terzo gode perché io faccio l'amante, che però vengo anche assolto da tanti problemi che mi provoca Bernard e Giuseppe e però non anticipiamo più nulla, aspettiamo la gente a venire venerdì e sabato alle ore 21 a teatro. Noi siamo sempre pronti, per noi è sempre un piacere continuare a recitare e c'è bisogno che la gente continui a venire a vederci. Grazie, buon anno.